Una donna si è rifugiata nel balcone al quarto piano di un appartamento in fiamme ed è stata salvata dai vigili del fuoco. L'incendio è divampato poco prima delle 22.30 di ieri al quarto piano di un condominio di 12 appartamenti di via Principe Umberto a Legnago in provincia di Verona, evacuato l'intero stabile di 12 appartamenti e 19 persone che si trovavano all'interno al momento del rogo. Le squadre arrivate dal locale di staccamento da Verone, dal distaccamento dei volontari di Bovolone, con tre autopompe, un autobot e l'autoscale, 17 operatori sono entrati nello stabile già parzialmente evacuato, entrando nell'appartamento in fiamme e portando in salvo la donna, mentre altri operatori spegnevano l'incendio. I condomini evacuati sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario. La donna e un'altra persona sono stati invece portati all'ospedale, ricoverata comunque solo la donna dell'appartamento dove è divampato il rogo. Inagibile l'alloggio interessato dall'incendio, interdetto momentaneamente l'uso dell'appartamento sottostante per infiltrazioni d'acqua. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici. Le operazioni di messa in sicurezza del condominio da parte delle squadre sono terminate poco prima delle 4 del mattino con il rientro dei residenti negli appartamenti.